amici di telesmunto bentornati nel nostro appuntamento del tg smunto qui sul canale principale telesmunto il canale a miraglia il canale a miraglia vi invito a iscrivervi in descrizione metto il link vi dovete iscrivere ragazzi al nuovo canale telesmunto news il nuovo canale dove pubblichiamo di tanto in tanto video news video news qui parliamo in generale del web la parliamo di politica e naturalmente news allora vabbè è anche un canale secondario di riserva diciamo allora amici in questo video vi parlerò del perché il generale papalardo e i giri arancioni sono il primo movimento in italia è l'unico movimento che potrà cambiare le sorti della nostra nazione in primis perché c'è la serietà questo è alla base di tutto in secondis perché amici noi siamo stati i primi il giri arancioni siamo stati i primi durante la pandemia a lottare a lottare a metterci naturalmente in gioco naturalmente gli altri poi arrivano sempre dopo e vorrebbero noi alziamo la pietra e l'altro se la colgono la lumaca no non è così non è così è inutile che ora stanno nascendo come i funghi scandinattisti che vorrebbero accaparrarsi loro ma non ci riescono perché sono tutti dei qua 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 tutti dei qua 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 sproveduti sproveduti allora ragazzi noi già abbiamo la piattaforma con telesmundo il generale papalardo nella scorsa intervista che potete vedere sulla nostra piattaforma www.telesmundo.tv link in descrizione ragazzi il generale papalardo mi ha accennato che sta lavorando pure su una sua piattaforma e su un suo sito internet molto molto più articolato rispetto il precedente ragazzi sarà un sito internet strutturato in una maniera così almeno amici miei vedete la serietà e la struttura e l'organizzazione di un movimento politico che dovrà essere il movimento che cambierà le sorti della nazione perché così stiamo andando in basso in basso in basso in basso in basso dovremmo risalire e chi la potrà far risalire l'italia berlusconi zero salvini zero meloni zero ragazzi chi potrà far salire l'italia il generale papalardo e voi dite questo genio livelli che alcuni lo criticano ma chi lo critica chi lo critica i depensanti lo criticano i depensanti che poi voi fate uno più uno cioè dite ma questo qui è un depensante ma chi lo critica ragazzi ma fatevi due domande a chi critica il generale e nende nende mi è scato con nende questa gente lo critica allora il generale papalardo ragazzi è l'unico coerente l'unico coerente che porterà questa barca ragazzi la porterà alla fine del del viaggio alla fine del viaggio io vi invito vi invito a visitare il nostro sito www.telesmundo.tv e a condividere tutti i video che ci sono nella piattaforma la prima piattaforma gratis gratis non c'è bisogno che ti scrivi paghi un mese di tre euro al mese quattro euro al mese è gratis è gratis ragazzi che magari su youtube o altre cose licenzurano nella piattaforma non licenzurano e li sto iniziando a pubblicare e sono disponibili a tutti non ce n'è amici che arriva un utente su telesmundo e si può non deve pagare no ragazzi su telesmundo i video che video ragazzi bomba che youtube potrebbe censurare sono gratis ti clicchi ora poco a poco li sto iniziando a caricare ragazzi clicchi e vedi telesmundo è gratis noi non facciamo le piattaforme per speculare voi mi faccio dare i tre euro e alla fine l'obiettivo è informare la gente non è prendersi il soldi dalla gente ripeto in descrizione metto pure il link se volete aiutarmi per le spese contribuire alle spese potete farmi una donazione su paypal una donazione io non vi dico dammi tre euro se non ti faccio vedere perché i video devono essere visibili a tutti e dobbiamo condividerli dappertutto perché non dobbiamo mettere dei video solo in esclusiva per mille persone che hanno pagato l'iscrizione e poi no devono essere virali devono diventare ragazzi la piattaforma è gratuita a tutti la nostra piattaforma è gratuita a tutti ragazzi come queste barche qua dietro il generale papalardo sarà come il comandante di quelle quelle barche l'italia e sarà un titanic che non affonderà grazie al generale papalardo e dobbiamo tutti tutti condividere i gilet arancioni perché amici è l'unica soluzione quando mi dicono e mi scrivono tizio caio no tizio caio mi vanno scrivendo nomi ma che cavolo sono questi qui ma non hanno neanche l'idea di fare politica di comando di gestire non sanno gestire neanche casa sua non sanno neanche gestire casa sua e vorrebbero gestire l'italia non sanno gestire casa sua e vorrebbero cercare di gestire ma cercate di iniziare a gestire la vostra casa che a casa vostra comandano le vostre mogli non comandate proprio voi non comandate proprio voi e poi tu tu che ti fai comandare la tua moglie vorresti comandare l'italia ragazzi è proprio così c'è gente che si fa comandare dalle proprie mogli e poi fa i movimenti politici per poter comandare noi italiani ma porco cane perché ragazzi si tratta di comando gestione gestione non è che stiamo dicendo dittatura è ok siamo un movimento democratico è un movimento democratico però amici ci vuole una persona col pugno forte che sa gestire le cose ad esempio il generale papalardo ha dimostrato di farsi il giro dell'italia il 30 maggio fino al 2 giugno ha organizzato in tutte le 36 piazze d'italia le manifestazioni ha organizzato il sito in tutto in maniera veloce durante la pandemia ragazzi è un grande è un grande è ingriticabile ingriticabile poi ragazzi uno che ha lavorato per la giustizia per anni lo criticano ora la pensione la cosa ha lavorato ha lavorato perché non criticate invece i soldi che si prende Antonio Conte e Dracula e tutti quanti perché non parlate di queste cose qui che invece parlate criticate il generale per la pensione che poi addirittura il vitalizio lo dà al movimento politico perché non criticate quei buffoni dei 5 stelle quel bibitaro di Luigi Di Maio perché non criticate questo qui che si sono inghiottati nella poltrona e non se ne vogliono più andare questi scandinavisti come potete ma neanche dovreste criticarlo invece di criticare al generale criticate invece Antonio Conte criticate a Beppe Grillo criticate a Berlusconi ragazzi criticate questa gente criticate questa gente arrivederci ragazzi vi saluto